Sì, sta zitta, sono io, non urlare, non urlare. Cosa cazzo ci fai tu qui? Mi hai fatto venire un infarto. Cosa hai fatto alla faccia? Devo sapere una cosa. Cosa? Devo sapere se era tutto finto. Trammetti, tu me lo dici e io sto a rispondo, te lo giuro. Ma perché? Rispondi. Cosa? Cosa devo rispondere? Devo sapere se mi hai preso per il culo, c'era qualcosa di vero. Sì, c'era qualcosa di vero. E adesso vattene. Lo sapevo. Forza. Lo sapevo. Vai via, l'hai giurato. Andiamoci noi e te, andiamo via. No. Che cazzo dici? Dove? Lontano da sto paese di merda, dove nessuno ci conosce. C'è una barca, andiamo. No. Io con te non ci vengo. Devi lasciarmi andare, Pietro. Sto qua. Non ti amo, veramente. Lo capisci? Con te non ci vengo. Allora io ti ammazzo. Io ti ammazzo, Veronica. Adesso vieni con me, hai capito? Pietro. E non urlare. Non urlare.